Fai! 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 Si fa? Maxi Bon Motta, du gustis meglio che Juan Messi male, eh? Ciao, a dopo Scusa, ma quanto spendete tu e il tuo ragazzo per telefonarvi? Poco, abbiamo Team 2, 90 lire al minuto Ma se vi chiamate tutto il giorno? Abbiamo anche Autoricarica 190 Chiamandoci ci ricarichiamo di 60 lire al minuto Ah, chiamate a 90 e vi ricaricate di 60 l'un l'altro Facendo i conti si può arrivare fino a 30, 30 lire al minuto Beh, meno di così Siete una coppia? Fate i vostri conti Team 2 e tutti Autoricarica 190, meno di così Oggi cosa metto? Una sua camicia Nuovo Nivea Rolondi Odorante Scorre sulla pelle Lasciando un'efficace protezione che dura fino a sera Cara, hai visto la mia camicia blu? Scommetto che non se ne accorge Nivea Rolondi Odorante Delicato sulla pelle Efficace fino a sera Piacere o tortura? Nuovo senso da incomplex ad azione totale Da sollievo immediato alla sensibilità dentale Il giorno dopo giorno ne previene il ritorno Nuovo senso da incomplex ad azione totale Contro la sensibilità dentale I.S. è in edicola Con la borsa fashion in tre colori moda Sulle 9.900 lire Ciao caffè Ogni momento è buono Se il bucato l'hai sbagliato C'era media E il problema è sistemato Ray Ottimo direi Ogni giorno nascono nuovi modi di comunicare Per questo nasce blu Per integrare internet e telefonia Mobile naturalmente Mobile naturalmente Blu Il futuro che non c'era Nuovo Licia Bouquet Deo Fragrance Ti regala il monile disegnato dall'Inzi Camp Nuovo Licia Bouquet Deo Fragrance Si c'è Si vede 130 Il nuovo motore del tempo Sector